Ciao a tutti e ben ritrovati su DriveK, in questo video vi racconterò quali sono le caratteristiche di questa nuova Opel Astra 2021 una vettura che abbiamo già avuto modo di scoprire in un'anteprima ma adesso riusciamo finalmente a metterci le mani sopra cominciamo prima di tutto dall'estetica, vedete che l'Astra rispetto a prima è cambiata radicalmente sia nelle proporzioni ovviamente che anche per quel che riguarda le linee infatti la vettura è molto più sportiva rispetto a prima e su strada fa tutto un altro effetto, quantomeno dal vivo questa è una versione GS Line quindi diciamo la top di gamma, in realtà poi vedremo tramite il nostro listino quali saranno le caratteristiche di singoli allestimenti e cercheremo poi anche di capire come cambia la versione base da quella invece top di gamma, tra l'altro parlando di listino se voi andate sul link in alto a destra o qua sotto in descrizione avrete la possibilità di dare già un'occhiata al listino attuale, si partirà vi dico da 24.500 euro per la nuova Opel Astra 2021 ma vedremo poi fino a che livelli si arriverà, considerate che attualmente la Peugeot 308 ad esempio arriva poco oltre i 40.000 euro per le motorizzazioni più potenti vi parlavo di proporzioni in effetti anche nella vista laterale completamente diverse rispetto a prima e molto più sportiva a cominciare dai cerchi in lega che sono veramente molto belli con questo disegno secondo me sono davvero accattivanti, hanno questo inserto in plastica che va un po' a carenare il cerchio che è sempre una questione aerodinamica suppongo, è anche per una questione estetica e poi abbiamo ovviamente in questo caso la colorazione bicolore e se voi vi spostate qui nella parte posteriore, a parte la colonnina ovviamente che ci fa capire che questa è la motorizzazione ibrida plug-in andiamo a vedere anche come il taglio sia proprio verticale con la scritta Astra al centro e i fari che sono ovviamente a led lo sono sia davanti che dietro, tra l'altro tra poco per quel che riguarda i fari vi racconterò anche una curiosità per quel che riguarda le motorizzazioni poi su Astra a parte questa versione ibrida che sarà disponibile in versione plug-in quindi con un range di circa 50 km da una batteria di 12,4 kWh permettrà di avere o 180 o 225 CV di sistema tra il motore elettrico e quello a benzina 1.6 turbo ci saranno ovviamente anche diesel e benzina con ancora una media cilindrata 1.5 turbo diesel da 130 CV cambio o manuale o automatico e anche stessa cosa sul 1.2 turbo benzina da 110 CV in su quindi comunque ci saranno le possibilità di avere tutte le motorizzazioni che poi servono per rispondere a chi desidera da un'auto del genere un po' tutte le possibilità, mettiamola così, per fortuna che rimane ancora una media cilindrata a gasolio sapete che ormai i produttori vanno tutti sui 2.000 a gasolio e chi ha ancora il coraggio di proporli ma molti in realtà vanno direttamente sul benzina o direttamente sul librido vi parlo innanzitutto dello spazio di disposizione a cominciare già dal bagagliaio, sono 422 litri di capacità minima nella parte sottostante vediamo cariche tedesche che ci ricordano che quest'auto è ingegnerizzata in Germania e ovviamente è il marchio tedesco, l'unico marchio stellantis tedesco e giocano molto su questo aspetto poi vedremo anche nella guida quali saranno le sensazioni se ricorderà appunto veramente una vettura tedesca anche in questo passiamo nella parte anteriore, venite con me vi faccio vedere i fari che in questo caso sono full led di tipo matrix su questo allestimento nella versione base saranno full led invece in questo caso sono addirittura con la tecnologia di illuminazione migliore mettiamola così più evoluta che permette di avere 84 moduli luminosi per faro questo permette quindi di illuminare tutta la strada davanti a voi mantenendo sempre comunque gli abbaglienti attivi ma andando a oscurare piccole porzioni di luce che permettono in questo modo di non abbagliare gli altri utenti della strada adesso venite, saliamo dentro vi parlavo di proporzioni, vi parlo anche di spazio perché comunque abbiamo 13 mm in più di passo della vettura quindi lo spazio all'interno è aumentato rispetto a prima e l'auto è più bassa di 15 mm quindi questo appunto cambia la sua percezione su strada e la seduta è 12 mm più bassa rispetto a prima per incrementare appunto la sensazione gli interni, lo vedete, sono radicalmente diversi rispetto a prima la vecchia Astra cominciava a patire il passare degli anni adesso qua siamo davvero su un altro livello e per quel che riguarda appunto gli interni abbiamo il cosiddetto pure panel ossia col doppio schermo nella parte centrale qui abbiamo ancora dei comandi fisici per quel che riguarda la climatizzazione abbiamo una serie, adesso non so se questo infatti non è utilizzabile perché è modalità demo per quel che riguarda la parte bassa troviamo materiale plastico e per quel che riguarda la parte alta invece abbiamo materiale più morbido comunque la percezione è quella di essere su una vettura decisamente diversa non soltanto esteticamente ma anche di qualità si nota il salto in avanti fatto da Opel è innegabile bello il volante, mi piace in pelle in questo caso con comandi al volante e lo spazio di disposizione è veramente molto quindi devo dire che la prima percezione dei materiali è la prima impressione da parte della vettura è veramente molto molto intrigante adesso venite che faccio vedere anche la parte posteriore dove abbiamo, vedete, parecchio spazio a disposizione anche per le gambe appunto vi dicevo 13 mm in più per quel che riguarda proprio le ginocchia e un ottimo spazio anche per la testa io sono alto 1,85 m ed è veramente abbondante sì, devo dire che davvero sono molto curioso di guidare quest'auto e capire se effettivamente è cambiata rispetto a prima e quanto è cambiata rispetto a prima noi ci vediamo alla prossima sempre a questo drive game mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di questa nuova pelastra e vi ricordo appunto di dare un'occhiata al nostro listino andando sull'inchinato a destra o qua sotto in descrizione ordini da ottobre, prime consegne, inizio 2022